Quest'anno è la 22esima edizione Tarantascone di Sonora 2023, 14, 15, 16 luglio, un'edizione per i giovani e per gli amanti dei Pink Floyd. Si inizia il venerdì e sabato con un programma dedicato particolarmente ai giovani. Il sabato ci sarà una serie di dj, anche abbastanza importanti e famosi. L'evento inizierà alle 18 per avere molto più tempo fino alle 3 di notte e quindi ci sarà questa trasformazione di onde sonora in dj village party. La domenica invece si cambia totalmente registro Pink Floyd con Atom Earth Mother Tour, il Pink Floyd Legend una band romana che porta questo tributo ai Pink Floyd, ha suonato con alcuni elementi dei Pink Floyd e quindi riconosciuta a livello nazionale e internazionale con una delle migliori band per il tributo ai Pink Floyd, accompagnati da un'orchestra e il coro dei polifonici del Marchesato codiretti da Miorano.